Una protesta che è sfociata in querela, quella di un notrito gruppo di 50 profughi di solo origine africana che hanno denunciato ai carabinieri della stazione di Candia la cooperativa che li gestiva. Il motivo è l'allontanamento dallo stabile che li ospitava di tre compagni probabilmente troppo facinorosi secondo i vertici della cooperativa, ma che, secondo i legali dei profughi, non colpevoli di atti vandalici. Pare che la denuncia nei confronti della struttura ospitante sia scattata perché, secondo i profughi, i vertici avrebbero dichiarato il falso quando, la settimana scorsa, c'era stata la prima protesta sfociata in piazza davanti al municipio. Potrebbe essere questo di Candia il primo caso in Italia in cui i richiedenti asilo hanno denunciato la cooperativa che li gestisce, una presa di posizione che ha lasciato basita la cittadinanza e che fa seguito ad una settimana tumultuosa sul caso migranti in paese. Una decina di giorni fa i migranti avevano protestato in tarda serata davanti al municipio del paese, costringendo il sindaco ed alcuni suoi collaboratori a richiedere l'intervento dei militari dell'arma per uscire dal palazzo. La protesta era scattata in quanto la cooperativa aveva allontanato tre profughi considerati un po' troppo facinorosi. Ma tutto sembrava essere finito qui. Ora arriva la denuncia dei profughi di solo origine africana, gli altri si sarebbero detti estranei della vicenda, che, con l'aiuto di un legale, hanno querelato i vertici della cooperativa. Addirittura i profughi avrebbero a disposizione materiale video e audio che attesterebbe la loro posizione. Il documento redatto alla caserma dei carabinieri del paese è stato poi depositato per conoscenza anche al sindaco Stefano Tonetti. A complicare maggiormente la situazione, ma la notizia è da approfondire, è la situazione sanitaria che si sarebbe venuta a creare nella comunità. Si parla di qualche caso di malattia trasmissibile, ma non comunque preoccupante, oggetto anche questa della protesta e di un'indagine degli stessi vertici della cooperativa e del sindaco stesso. Una situazione, quella di Candia, che potrebbe avere un eco nazionale e che sicuramente non mancherà di far discutere politica ed opinione pubblica.